Tanta paura per Laura Pausini, colpita da una grave malattia che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera. Nonostante il passare degli anni e l'inevitabile cambiamento della musica, Laura Pausini rimane ancora oggi una delle artiste italiane più seguite. Non solo nel bel paese ma anche all'estero, nei paesi latini le sue canzoni vanno ancora oggi per la maggiore. Purtroppo non tutti sanno che la sua carriera non è stata solo ricca di successi, la cantante si è anche dovuta misurare con più di qualche dramma. Specialmente con quello che per poco non rischiava di interrompere la sua avventura nel mondo dello spettacolo. Sono stati mesi difficili per l'autrice della solitudine che ha vissuto un profondo shock quando ha presso di essere affetta da una delicata malattia. In quel periodo ha dovuto mettere da parte tutti i suoi impegni per dedicarsi alle cure. Alla fine grazie all'impegno e all'affetto delle persone che le volevano bene, la Pausini è riuscita a lasciarsi quel periodo alle spalle. Oggi, tuttavia, la paura del dramma sfiorato è ancora forte nel cuore della cantante che ha da deciso di raccontare tutta la verità. Laura Pausini shock. Il racconto della malattia. Drama sfiorato per lei. Era il periodo del lockdown quando Laura Pausini, ha rilasciato una delle interviste più toccanti della sua carriera. Intervenuta ai microfoni di radio DJ, l'artista ha ammesso che qualche tempo prima era stata colpita da una malattia che l'ha portata a perdere la voce per ben quattro mesi. Inutile ribadire quanto sia stato un periodo stressante per lei che ha temuto di veder terminare tutto quello per cui aveva lottato nella vita. Il successo, la musica e le sue storiche canzoni, stavano per essere messe da parte. Senza voce la cantante non avrebbe più potuto esibirsi, e questo avrebbe messo fine ai suoi sogni. Un vero e proprio trauma per la cantautrice che oggi può guardarsi alle spalle con grande soddisfazione. Il suo impegno e i suoi amici le hanno infatti permesso di uscire da quello che sembrava un viaggio senza ritorno. Tra le persone che l'hanno aiutata di più non è mancato Pippo Baudo. Probabilmente il primo che l'ha lanciata, visto che nel 1993 la portò sul palco di San Remo, dove vinse, che decise di starle accanto in quel periodo accompagnandola persino a fare le cure in Austria. Nonostante la paura durata mesi, anche in questo caso il lieto fine ha avuto la meglio. Oggi la Pausini continua ad esibirsi con grande successo.